Comunque una contrastrategia di vaccinazione. Osservando con un apposito drone il pacco dei turipani che tutti conoscono come il Tulipark, riflettiamo sul Davarazzi e immaginiamo i turipani tutti in fila e perfettamente squadroni, come gli italiani in attesa di essere vaccinati. Il colore del tulipano esprime la categoria di appartenenza, quindi avremo il tulipano rosso che rappresenta l'individuo molto fragile da vaccinare urgentemente, mentre il tulipano gianglo indica l'individuo in urgente e quello rosa l'individuo che deve essere identificato sessualmente, vaccinato uomo o donna. Infine non abbiamo il tulipano verde, e cioè la speranza di essere vaccinati, perché il termine speranza non esiste, o meglio esiste il ministro speranza, ma la parola speranza non fa parte del mio vocabolario. Dando fuoco alle polverie tutti saranno vaccinati. Non esiste missione impossibile per il generale Filiuolo. A tale proposito cito il grande risultato ottenuto dal mio collega il colonel do James Geraldock, alias Chuck Norris, alias Romo di Redouch, che a metà degli anni Ottanta da solo le riuscì a liberare dalla prigionia vietnamita numerosi americani. Per oggi è tutto, passo e chiudo.